Buongiorno! Eccoci qui! Anche oggi una nuova avventura. Eh sì, dove andiamo oggi, Pinzi? Oggi andiamo in via Pignolo a Bergamo da Cellarium. Vi ho già raccontato che cos'era un Cellarium, che era un magazzino, chiamalo così, dove c'erano tutte le scorte e il Cellario, il frate, teneva d'occhio tutta la faccenda. Esatto. Quindi andiamo, il posto sembra bellissimo, una location super storica e poi ovviamente vi facciamo sapere com'è con una feedback diretto lì sul posto. Esatto, come facciamo sempre. Porterai, intanto mi faccio il caffettino, porterai le tue frasi? Ovviamente sì, porteremo le frasi perché il tour delle frasi che respirano continua e continuerà perché ancora non vi abbiamo messo lì le nuove date, ma ce ne sono ancora. Continua a aumentare. Ah, fra pochissimo, a Bergamo.